Sono stati trovati chiusi dentro un sacchetto di plastica gettati in un cassonetto. Nonostante le cure, uno dei tre gattini non ce l'ha fatta. Un ennesimo atto gravissimo contro gli animali, come denuncia la sezione EMPA di San Giovanni Valdarno, che adesso si sta prendendo cura dei piccoli felini sopravvissuti. È successo in località Pestello, nel comune di Montevarchi. I gattini sono salvi grazie a due donne che hanno sentito miagolare e hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, gli operatori di Sei Toscana e i vigili del fuoco per aprire il cassonetto di nuova generazione. Faremo come sempre del nostro meglio per provare a portarli avanti, nonostante il tasso di mortalità nei neonati così abbandonati sia veramente alto, affermano da EMPA. Siamo come sempre senza parole, solo rabbia e disperazione. L'associazione chiede anche l'aiuto di chiunque possa aver visto qualcosa. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato, ma un triste copione che si rinnova anno dopo anno, riga dopo riga. EMPA invoca così alla sterilizzazione, unica strada percorribile per ridurre il triste fenomeno degli abbandoni. Dal 2013 l'associazione nel territorio valdarnese sterilizza circa 600 gatti all'anno, ma nonostante questo sfiorano quota 300 i felini che annualmente vengono recuperati e fatti adottare dalla sezione EMPA di San Giovanni Valdarno.